Bene, questo è il risultato della panificazione con lievito madre. Sono delle pagnotte da circa 450 grammi e una pitta, vedete, una pitta nostra a casa reccia, molto interessante. Pagnottelle di 400 grammi, sono belle calde, quindi con lievito madre si possono realizzare delle bellissime pagnotte, pitte, pizze, quello che volete. L'importante è avere sempre cura e stare sempre con gattende a qualsiasi particolare.